C'è una festa importante qui in Giappone perché è la festa del Tanabata Kimochi ga taberarete ima Che gnocca Un buon cappuccino Pancake Bosco verticale Che bei posti che vi porto sempre no? Seba festeggerà il Tanabata Lassandosi nel fiume Tama Portandoci nel Giardino delle Rose In cima a Takashimaya Ed infine andrà a cena con una famiglia giapponese nel loro ristorante Oggi è il 7 di luglio e sapete che giorno è in Giappone? Bene ragazzi ciao a tutti e benvenuti su un nuovo Day of My Life Anche oggi passeremo la giornata insieme Buona domenica e spero che siate felici perché io lo sono Oggi sarà una giornata un po' particolare perché andrò a casa di un mio amico giapponese E' un mio amico che viene dall'Hokkaido e penso che quest'estate andrò anche a trovarlo in Hokkaido Quindi ci divertiremo Comunque vi volevo ricordare innanzitutto di seguirmi su Instagram Che sono felicissimo che stiamo aumentando anche lì Grazie a tutti voi Leggo tutte le storie anche se non riesco a rispondere a tutti però le leggo tutte E grazie anche tanto per i commenti A dopo Con la scusa oggi vi spiego qualcosina di giapponese Queste sono le regole che devono rispettare i bambini Si vedono spesso in Giappone Che sarebbero praticamente quando vedi qualcuno che non conosci Non dovresti andare con loro Non dovresti salire nella loro macchina Non dovete neanche parlarci Dovete subito correre via E dovete dirlo alla polizia Prima di ogni cosa si va in palestra A dopo Oh mio dio Sono stanchissimo ma anche oggi finita Adesso mi bevo queste Vado a casa Mi cambio Faccio la doccia E poi finalmente vado a trovare il mio amico C'ho una fame pazzesca ragazzi È quasi mezzogiorno Dovrò farmi un'oretta di treno Però la mamma di questo mio amico cucina talmente bene Che ne vale la pena A dopo Ma che bella questa farfalla Ma mi vola proprio attorno È carinissima Wow Che bello il Giappone Bene ragazzi E oggi benvenuti a Futago Tamagawa Questo è un posto molto chic Che però molta gente non conosce Quindi ve lo faccio vedere Vado subito a mangiare C'ho una fame da lupi Dopo quella sezione di palestra Non avete idea Ma guardate che bello questo ristorante Che praticamente potete avere Tutta la verdura che volete Tutta qua E per pochissimo veramente Cioè con 15 euro Io mi sono preso la pasta E adesso mi prendo anche Tutta questa verdura Che in Giappone devo dire Che finisco sempre per mangiarne poca Invece quando sono a Trento Ne mangio sempre uno sproposito Però veramente Mangiate la verdura Perché dovete mangiare le vitamine Eccetera eccetera È importante Poi è anche buona Ragazzi guardate che aspetto invitante Adattimo Buon appetito Assaggiamo alcune patata Che buono Tra l'altro Qua costa tipo sui 1300 e 1800 yen Dipende da che tipo di pasta prendete Io ho preso con la calagoia Che è costata un po' di più Però è veramente buonissima Quindi ve la consiglio di venire qua Se avete bisogno di mangiare un po' di verdura Questo ristorante è fantastico Ed ecco che è arrivata anche la pasta Al pomodoro per il mio amico E quella con la goia per me Tra l'altro la cameriera pensava Che questa alla goia fosse per il mio amico giapponese E quella al pomodoro per me Ma guarda un po' te Assaggiamola comunque Non è male Non è male però mi devono spiegare come hanno fatto a tagliare la goia così fina Io continuo a mangiarla e ci vediamo dopo pranzo Che vi presenterò il cane del mio amico Che si chiama Sonia Guardate quanto è grande l'Hokkaido rispetto all'Italia Cioè no è più grande l'Italia Però è solo un'isola Comunque vi annuncio già che sto per fare un viaggio in Hokkaido a breve quest'estate Quindi tenetevi pronti E adesso facciamo un salto al loft Che è un po' l'eurobrico giapponese Viva le gomme inutili Guardate che belle Queste mi sa che le compro Anche queste sono fantastiche E guardate Pure queste sono gomme Che meraviglia Il Giappone ha sempre qualche minchiata in più Gli adesivi di Heidi Guardate ancora le Polaroid come sono in voga in Giappone Ragazzi ragazzi ma sapete che cos'è questa? Sono i Nagashisome Vedete? Praticamente li mettono dentro questa spezia Se li scivolo E poi mentre scendono la gente se li mangia Non è una figata pazzesca? Oddio occupa un po' di spazio eh Però è carino Ma che carini Ed eccoci venuti al Tamagawa E sarebbe il fiume Tama Siete pronti a farvi un bel giretto? Che bei posti che vi porto sempre no? Guardiamo subito la mappa Però vedete una delle cose che mi piace di Tokyo È che basta prendere il treno per dieci minuti E già c'è tanto verde campagna Quindi è carino eh Vabbè allora praticamente da questo lato c'è Tokyo Invece attraversato il fiume c'è Kanagawa-ken Che sarebbe un'altra prefettura Quindi questo fiume divide queste due prefetture Tra un po' dovrai caricare il video con 47 prefetture Così le imparate bene E ragazzi oggi c'è una festa importante qui in Giappone Perché è la festa del Tanabata E c'è una festa anche qui a Futago Tamagawa Che adesso vi faremo vedere Uh queste sono le costosissime ciliegie Sato Da provare assolutamente Guardate Questa è proprio una tradizione del Tanabata Vabbè comunque questa è la festa del Tanabata di Sendai E vabbè c'è tutto il Giappone Però questo festival speciale che hanno fatto qui oggi Viene proprio da Sendai Ho deciso di lasciarvi un pezzo di questa tradizione Per chi non la conoscesse Momento culturale C'era una volta Una bellissima principessa Di nome Orihime Figlia di Tentei L'imperatore del cielo E sovrano di tutti gli dèi La principessa viveva col padre Sulle sponde del fiume celeste E passava tutte le sue giornate a tessere la tela Con cui poi cuciva preziosi abiti per tutti gli dèi Orihime lavorava molto duramente Per far felice il padre Ma era triste Perché a causa del suo lavoro Non avrebbe mai potuto incontrare nessuno Un bel giorno Tentei Grazie all'amore per la figlia E al dispiacere che provava nel vederla così triste Decise di darla in sposa ad un bellissimo giovane Di nome Ikoboshi Un mandriano che aveva il compito di far pascolare i buoi sacri Per i due giovani Fu amore a prima vista Essi si innamorarono follemente l'uno dell'altra Ed erano talmente felici Che presi dall'amore e dalla passione Trascorrevano ogni giornata insieme Dimenticandosi di tutto il resto Anche dei loro doveri Di conseguenza Orihime non tesseva più la sua tela Lasciando gli dèi senza abiti E i buoi di Ikoboshi Vagavano senza controllo per tutto il cielo Questo scatenò la rabbia di Tentei Che non poteva tollerare questa situazione E per porvi rimedio Fu costretto a punire severamente i due sposi Orihime e Ikoboshi Furono separati ai due lati del fiume celeste E costretti a tornare ai loro doveri La principessa era disperata Non poteva vivere senza il suo amato E continuava a piangere in interrottamento Tentei commosso dalle lacrime della figlia Consentì allora che i due si potessero incontrare Ma solamente una volta all'anno Il settimo giorno del settimo mese Da allora uno stormo di gaze giunge ogni anno Ed esse creano un ponte con le loro ali Così che Orihime possa attraversare il fiume celeste E riabbracciare il suo tanto amato Ikoboshi Ancora oggi nelle notti d'estate Possiamo alzare gli occhi al cielo Ed ammirare il fiume celeste La via Lattea A cui lati si possono scorgere due brillanti stelle Vega, la principessa Orihime Ed Altair, il pastore Ikoboshi Accanto ad Altair ci sono anche due piccole stelle Che la leggenda vuole siano i figli dei due innamorati In Giappone, il settimo giorno del settimo mese Per ricordare l'incontro di Orihime e Ikoboshi Si usa appendere dei tanzaku ai rami di un albero di bambù Un tanzaku è un desiderio, una poesia, una preghiera Che viene scritto in verticale su un cartoncino colorato Della carta tradizionale di forma rettangolare E viene poi appeso ai rami di bambù Si tratta della festa del Tanabata Che nasce da questa leggenda popolare di origine cinese Della quale esistono svariate versioni Originariamente questa tradizione si basava sul calendario lunare giapponese Che è circa un mese indietro rispetto a quello gregoriano Come risultato alcuni festival si tengono il 7 luglio Mentre altri intorno al 7 di agosto Che tu sia grande o piccino Appendi il tuo tanzaku Alza gli occhi al cielo E guardando le stelle esprime un desiderio Che l'amore di Orohime e Ikoboshi possa esaudirlo E questa è la terrazza della birra E adesso mi gusto un buon cappuccino Buonissimo E' arrivata la pancake Vabbè io mi pappo questa bontà per voi E ci vediamo dopo Ciao E adesso andiamo sulla terrazza lassù di Takashimaya Comunque guardate A Takashimaya Uscite e guardate che meraviglia E' un posto troppo spettacolare qui E questa non è ancora la terrazza Poi adesso vi ci porta anche in terrasca lassù Ma guardate che meraviglia questo bosco verticale Eh? Fa troppo strano essere nel mezzo della città E vedere tutta questa meraviglia di verde Qua ci sono tutti i nomi di tutti i fiori che ci sono qui Quanti fiori ragazzi Questo sarebbe praticamente il giardino delle rose Rose garden Quindi è pieno di rose E a proposito di fiori Lo sapete già vero? Dai fermate tutti e fate un commento con scritto flower Appena vedete questo coso E se non ve la siete ascoltati Andate su Spotify, iTunes, Amazon Oppure sul mio canale di musica Che l'ho caricata anche lì Ad ascoltarvela Che belli Io adoro i giardini dentro i palazzi Guardate che meraviglia architettonica E' veramente figo questo posto Lasciatemelo dire Guardate quanto siamo in alto Che meraviglia Io voglio essere qui per il tramonto però Questo è un due tre stella Versione giapponese Guardate che meraviglia questo cielo Wow che faccio che si respira qui Vabbè Adesso ci spostiamo che andiamo a cena In ogni caso Ditemi se a voi vi piacciono questi giardini nei palazzi Magari la prossima volta vengo a mangiarci Ok? Ci vediamo dopo per cena Guardate che tranquillo questo neighborhood Siamo finalmente arrivati nel ristorante dei genitori di un mio amico Che bello finalmente Ed ecco qua la cena Purtroppo me la voglio godere quindi non posso fare video Ma buon appetito anche a voi Ci vediamo dopo Oh mio dio guardate quante torte Si può scegliere quella che vogliamo Assaggiamo la torta È buona Sonia Sonia E vabbè E con questa dolcezza Non posso che finire il video di oggi Spero che vi sia rivertita Questa giornata del Tanabata E ditemi se avete imparato qualcosa di più Ditemi se l'anno prossimo Adesso che conoscete questa festa Lo festeggerete in Italia O se l'avete festeggiata anche voi Io ho desiderato di arrivare per l'anno prossimo Per il prossimo Tanabata A 100.000 iscritti Vediamo se ci arriviamo Vabbè Devo correre perché è l'ultimo treno Mi sono divertito tantissimo Questa sera E domani c'è un'altra avventura Che non voglio spoilerarvi Guardate che cosa c'è qui Guardate che meraviglia ragazzi È stata una giornata davvero stupenda Ve lo dico ancora Buona Tanabata a tutti E spero che il vostro desiderio Si avveri Un abbraccio da Seba E ci vediamo al prossimo video Grazie ancora Ciao Vi ricordiamo che potete trovare La musica di Sebastiano Serafini Nei maggiori digital store Che gnocca E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video